La questione è quanto possiamo sostenere questa situazione. Costa un miliardo all'anno in Italia la gestione dei richiedenti asilo. Non è un sistema che funziona. Io preferisco spendere un miliardo in quei paesi ed evitare che ci vengano. Ma se l'Europa a livello politico internazionale non sta battendo un colpo, non possiamo nascondercelo. E qui mi consenta la polemica sul Presidente Renzi, che ha voluto Mogherini al Ministro degli Esteri Europeo ed è totalmente assente. Noi abbiamo bisogno di avere... Ma se è stata lei a introdurre la riunione ieri sera dei capi di Stato e di governo... Nel senso che ha fatto la velina e ha fatto l'introduzione e ha salutato Buonasera. Perché parliamoci chiaro, in questa partita... Quello ruolo è strategico. In questa partita la si decide se al tavolo ci sta la Russia e gli Stati Uniti. Punto. Altrimenti qualsiasi cosa l'Europa è totalmente assente. E io sono d'accordo su questo. Eh, meno male che ci sono elementi... Sul fatto che deve essere un tema mondiale, non soltanto europeo. Eh, ma il problema è che lo subiamo noi poi.